L'Università di Teramo ha ospitato il convegno dal titolo Il Patrimonio Segreto Immagini e territorio tra conservazione, ricerca e valorizzazione. Un evento che ha messo in luce il ruolo delle immagini e delle arti visive nella promozione culturale e nello sviluppo economico del territorio abruzzese. L'incontro ha affrontato temi cruciali legati alla conservazione, alla valorizzazione e alla ricerca nel campo delle immagini, allargando il dibattito oltre il cinema e l'audiovisivo. È fondamentale l'evento di oggi che va a racchiudere le tre missioni dell'Università, la didattica, la ricerca e il trasferimento tecnologico. Sono tematiche quelle del cinema che sono di particolare importanza con il Dipartimento di Scienze della Comunicazione, ma a livello generale a livello di Ateneo, perché significa creare delle opportunità, creare una vocazione per questo territorio in piena sinergia con quelle che sono poi le linee generali della Regione Abruzzo. Siamo contenti di ospitare oggi questa iniziativa e sono diverse le attività anche in ambito di ricerca che da oggi andremo a potenziare qui all'Università di Teramo. Presente all'evento anche l'assessore regionale Roberto Sant'Angelo che ha rimarcato il grande lavoro dell'Università Abruzzesi. Sì, e con un rapporto privilegiato con l'Università di Teramo, con il Dipartimento di Scienze della Comunicazione e Corso di Studi d'AMS, per implementare sempre di più quella che è e dovrebbe essere la vocazione del nostro territorio che deve essere orientata sempre di più alla formazione e alla ricerca. Tra gli argomenti trattati si è parlato anche di fotografia, fumetti, installazioni multimediali e altre forme visive, sottolineando la necessità di un dialogo interdisciplinare tra queste espressioni artistiche. L'obiettivo dell'evento è stato anche quello di promuovere una visione integrata del patrimonio visivo e di generare ricadute positive per l'intero territorio abruzzese. L'Abruzzo è una regione poco scoperta dai più, dal panorama nazionale e internazionale. Attraverso però un'analisi del nostro contesto storico ci possiamo proiettare verso il futuro. La regione Abruzzo ha messo in campo oltre 2 milioni di euro per Phil Commission, che poi è la promozione del territorio attraverso il cinema, la fotografia e l'audiovisivo. E noi contiamo di sostenere nel prossimo futuro questo settore perché può portare anche valore occupazionale, valore al nostro territorio attraverso una forma diversa.